Dopo la seconda guerra mondiale, di fatto la sovranità non ha più abitato in Europa. Queste sono cose che è inutile che vi dica perché le sapete. E quindi, quando la sovranità non abitava in Europa, perché l'Europa era spaccata a metà e posseduta al 50% da due superpotenze supersovrane, nessuno si preoccupava di sovranità. Infatti, Beppe, ti ricorderai, quando eravamo più giovani, non era un tema nostro, non era un tema di dibattito la sovranità. Non ci interessava, non ci diceva molto. Ha cominciato a essere importante come tema quando, negli anni Ottanta, la costruzione post-bellica del mondo ha cominciato a sgretolarsi. E' diventata l'ordine del giorno quando si è sgretolato, cioè quando le due superpotenze, in modi diversi, hanno perduto la presa sull'Europa. Gli stati europei, che erano rimasti sotto traccia, intenti a far soldi, come potevano ciascuno come poteva, si sono trovati obbligati, o hanno creduto di trovarsi obbligati, a prendere un posto nella struttura del potere politico mondiale, e si sono inventati la UE e naturalmente non hanno avuto, nella voglia, nel coraggio di dire facciamo gli Stati Uniti d'Europa, e tuttavia volevano uscire dalla dimensione della statualità nazionale ristretta, e hanno inventato l'Unione Europea. Allora, l'Unione Europea non è un soggetto sovrano, bene, non è un soggetto democratico, quindi, bene, però si dà il caso che si trovi a condividere il pianeta con dei soggetti sovrani, alcuni dei quali sono democratici nel nostro senso, altri sono democratici nel loro senso. Ecco, questo è il vero problema. Che cose vogliamo costruire in Europa? Come si fa ad uscire dalla logica del potere costituente, cioè di quell'atto di decisione per l'unità, senza la quale tu non sarai mai in grado di avere la capacità di definire quali sono i tuoi interessi strategici non negoziabili, cioè non sarai mai in grado di distinguere l'amico dal nemico, non sarai mai in grado di prendere una decisione politica fondamentale. Non c'è alcun bisogno dei partiti sovranisti. Tutti gli stati europei sono sovranisti. Cioè, a tutti gli stati europei va bene non essere spossessati della propria sovranità. L'Europa non è costruita, oggi la UE non è una struttura che serve a superare la sovranità degli stati. Non lo vuole fare, non vuole costituire, né perché voglia costituire un soggetto politico europeo sovrano, né perché voglia ragionare oltre la sovranità. La UE, sgangherata com'è, è di fatto una cosa che abbiamo già visto molte altre volte nel passato. Io non sono d'accordo con il mio amico Portinaro. Non è il Sacro Romano Impero, che non aveva alcuna capacità politica, tant'è vero che ha perduto tutte le guerre che ha fatto e alla fine è stato cassato con un gesto sulla carta da Napoleone. Non è il Sacro Romano Impero, è qualcosa di più serio, è il concerto delle potenze. È il buon, vecchio concerto delle potenze. L'Europa, la Costituzione materiale della UE è data dalla pratica intergovernativa, come viene definita dal Consiglio dei Cacchi di Stato e di Governo, e lì si conta per quello che si è. E vi garantisco, come sapete benissimo, che quello che si è lì lo sanno tutti. Tutti sanno che cosa è la Germania, tutti sanno che cosa è la Francia, tutti sanno che cosa è l'Italia. Non si bleffa nella politica internazionale e lì emergono le costanti storiche che si sono sempre viste all'opera nell'Europa moderna degli Stati. Il rapporto Germania-Italia è un rapporto che dal 1883 noi abbiamo sempre avuto nel bene e nel male con due anni di eccezione nella Prima Guerra Mondiale e due anni di eccezione nella seconda. Ed è sempre stato un rapporto sbilanciato a favore della Germania, perché la Germania è più potente dell'Italia. Quello che è cambiato è che la Germania e la Francia non possono più farsi la guerra. Ma quello che è rimasto uguale è che l'Europa è un insieme di Stati sovrani dove ciascuno conta per il proprio peso, con una differenza certamente che è la moneta unica, che è una bella cessione di sovranità. Certo, come no? Certo, che non rende non sovrani gli Stati, perché la Germania è ancora sovrana da quel punto di vista lì, come lo è la Francia. Semmai l'elemento di più radicale differenza fra il concerto delle potenze e l'oggi è che il concerto delle potenze di oggi ha una caratteristica, che questi Stati non si possono più fare la guerra gli uni con gli altri, e viva, perché conservano ancora una struttura nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè la NATO. Semmai chiediamoci che cos'è un pezzo di mondo fatto di Stati sovrani che hanno ceduto un pezzo di sovranità monetaria, cosa che è andata a vantaggio di qualcuno di essi e a svantaggio di altri di essi, e tutti hanno ceduto, anche la Francia che lo nega, hanno ceduto lo ius ad bello. Se non ci piace questo modo di esistere, se lo troviamo insensato, allora chiediamoci come facciamo a diventare qualche cosa di relativamente simile agli altri grandi poteri che abitano questo pianeta, cioè come facciamo a avere un qualche controllo sopra lo spazio interno, sulle dinamiche sociali ed economiche dello spazio interno, un qualche controllo politico, che vuol dire avere partiti. I partiti servono a trasmettere l'esigenza di politica dalla società allo Stato. Se noi neghiamo che questo sia sovranità, allora parliamo di una sovranità che non è mai esistita. Con la vera differenza, torno a dire, che noi viviamo in un universo smilitarizzato, cioè che questi Stati, tutti hanno perduto la facoltà di fare la pace e la guerra. attraverso la nozione di sovranità possiamo fare quell'operazione di rilettura, di critica della dogsa, che è l'essenza della filosofia, l'unica sua giustificazione, cioè una serie di strumenti per impedire il monopolio del senso, contrastare il monopolio del senso a chi lo detiene. Oggi il monopolio del senso è detenuto da un insieme di poteri che sono universalistici nella forma, nella retorica, e estremamente determinati nella loro realtà. L'Europa è un sottoinsieme di questi poteri, dove a parole c'è spirito europeo, nella pratica ci sono buone, vecchie logiche sovraniche.